Si svolgerà dal 12 al 14 dicembre presso l'hotel Plaza di Caserta il V Congresso Nazionale di Acliterra sul tema La Terra alimenta il futuro. Michele Zannini, presidente uscente di Acliterra, presenta l'iniziativa. A Caserta il V Congresso Nazionale di Acliterra su un tema suggestivo, la terra alimenta il futuro, intanto per dire che c'è un legame immediato, evidente, strategico tra il destino dell'agricoltura in Italia e il mezzogiorno d'Italia. Una grande questione nazionale che deve fare della questione agraria e del rilancio dell'agricoltura come un comparto economico primario e fondamentale, una scelta di primo livello, una scelta fondamentale che serve al futuro del nostro Paese e con essa anche il rilancio, un recupero di attenzione alle questioni di mezzogiorno. Di mezzogiorno si parla poco negli ultimi tempi e questo è preoccupante perché l'economia meridionale è fondamentale per il Paese e come anche la sua tranquillità sociale, il suo ordine sociale, la sua attenzione agli interessi generali di un Paese che ha bisogno del Sud e che ha bisogno di vedere sviluppata una grande politica mediterranea nella quale e l'agricoltura e il mezzogiorno sono estremamente importanti. Ragioneremo di un'agricoltura che non è solo il comparto economico che produce beni per vivere, beni alimentari, ma l'agricoltura che ormai è responsabile della sostenibilità ambientale e che incide su una quantità di ulteriori esiti in campo sociale, culturale, ambientale. L'agricoltura oggi produce beni relazionali che sono importanti, custodisce territori, paesaggi, culture, comunità e dunque è dentro questa nuova prospettiva di agricoltura indispensabile per dare un senso, un valore, un segno al rilancio economico del nostro Paese che noi ragioniamo a Caserta di un nuovo modo di immaginare, di considerare il ruolo dell'agricoltura rispetto all'ambiente, alle grandi crisi che su di noi ingombono dell'acqua, del clima, dei territori. Dove c'è agricoltura c'è territorio, dove c'è agricoltura non ci sarebbe stato il distrastro della Sardegna o gli smottamenti, i disordini idrogeologici, le crisi ambientali che stiamo registrando in tutta Italia, ma soprattutto dove c'è agricoltura oggi c'è anche una nuova considerazione del lavoro e delle relazioni sociali, c'è comunità. Come le ACLI hanno impostato il loro congresso nella prospettiva di rigenerare comunità, noi pensiamo di corrispondere a questo disegno rigenerando la ruralità nel mondo agricolo, una dimensione che mette insieme campagna e città, che mette insieme giovani e anziani, che mette insieme tradizioni e futuro.